Ragazzi se state godendo lasciate tutti un bel mi piace, forza lo so che ci siete, tutti un bel mi piace Vai crediamoci, The Champions! Vai! Ci parte ragazzi, partita sarà difficile perché in casa dell'atletico abbiamo perso 2-0 E quindi dobbiamo dare una risposta in casa ragazzi, dobbiamo farlo oggi Oggi è la risposta che la voglio vedere da voi Uscite le palle, forza ragazzi, dai dobbiamo vincere, forza Tati, tanto tanto, dai ciolo Forza, forza, per le due voglio toccare Si parte, dai ragazzi, crediamoci Oh, madonna Aiù vale, aiù vale Oddio, ma non è spirazzola Oddio Codin Oddio soleo Bello Nessuno che ci... Come fare va bene, va bene, va bene Vado bene, vai, soldi e la vita stanno facendo Sì È buona, è buona È barriero È barriero È barriero C'è barriero, è barriero Ho lasciato plan Infatti sì, c'è mica è andato giocco Qualcuno a farsi da un calcio l'ho visto subito a te l'ho visto la lasciata l'ho lasciata lui anche se c'è un altro forse ronardo quasi li da quasi li andiamo vallero dai fallo metto dai ridi ridi lo so che fallo ce ne ho il problema c'è un'altra cosa non era flaccato sempre fallo dai no perché non lo tiene però può andare al bar e decide lui lui non ha placca guarda come ci va lui va a preparare lui lo anticipa comunque l'ha anticipato comunque ronaldo ma devi andare al bar però non puoi far decidere gli altri da qua ci vede da qua vediamo ma pure secondo me sembrava fallo comunque è forte dai ma cancelo però ma che hai stasera dai schiacciamoli vabbè vabbè mamma mia fuori il gioco fuori il gioco bello bello oddio dai ragazzi crediamoci dai sta uccidendo s'era magnatico la magnate roche ma c'era la prima altista a sinistra era proprio il crosco si poi mancino eh vabbè con un guapà è la metà di di ronaldo ma come si è andato i bambini vai dai no vai dai oh ma fa il 2-0 ora vai ragazzi dai dai no ti è buttato proprio dai se ti è buttato cambia direzione dai che scherzo è questo si è visto provare in volo cosa mai ma guardi nei play dai e guarda chi va addosso guarda lì va dritto sull'uomo va va dritto sull'uomo non ho fatto l'arbitro ma va dritto sull'uomo si vede proprio visto bene cazzo calmati l'accomando qualifico stessi fu cess fai tre gole capo con la novantesima e godo vantaggio quasi quasi dai dai mi piace sta gufando sta nota mi sta scherzando come is on fire oh oh ma che cosa facerlo l'altro ma chi sei l'altro di ronardi ma che cazzo sono dopati guarda dopo le vogliano anche dopo la pesa è benissima la coordinazione era messo malissimo si è coordinato perfettamente oh no ma quant'è rimasto il lavoro questo gol oh fallo ma sento fallo che si cazzo guarda lì cambia maglia cambia maglia cambia maglia è un guerriero guarda chi è spelle sanno è un guerriero sai un tiro un tiro la falca eccolo dai ecco oh e sanno mangiata alvaro alvaro stati se l'è divorato stati graziati ma graziati lo giuro vado che gollo sanno mangiata morata a posta dai perché giovanella juve adesso giovanella freddo di madrid infatti all'andata non ha risultato e si dai e si dai finisce primo tempo ragazzi speriamo bene anche perché non dobbiamo dobbiamo stare calmi perché c'è tutto un secondo tempo dobbiamo ancora fare il 2 a 0 e poi speriamo bene raga si natura tutto nei piani non dico non dico nulla si stai giocando bene lo puoi dire stiamo giocando alla grande diciamo solo forza spinazzola sembra veramente sembra un secondo cr7 quindi speriamo magari continui così la juve con la grinta e con la voglia dai ragazzi ci credo dai ci vediamo ancora ragazzi si riparte col secondo tempo dobbiamo essere come nel primo dai motivati e dobbiamo vincere ah te le dico no oh madonna l'impressione sembrava quasi avuto gol sembrava aia 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 ronardo no aia o 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 cristiano o ancora lui avesse 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 chiamato o poco la giuro dai 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 ha fatto un gol della Champions League che ha fatto dobbia c'è capi fino alle 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 20 59 tutti che dicevano guarda rivediamo aspetta vabbè ma è entrata sicura entrata no è entrata aspetta l'hanno comprato per se stai partita è vero ma cazzo ma cazzo ma cazzo ma no niente che parata però che aveva fatto c'è anche se è entrata ha fatto una paradissima guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì c'è luce è luce fu guarda lì aspetta manca ancora si è vero è vero calma 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 vai magari esplodi te lo strappo sei vinciato te lo strappo tutto oh lo puoi toccar no no fermalo bravo cian anche lui partita buono buono veramente che partita gli amare cian ci vuole calma e sangue freddo calma ci vuole calma e sangue freddo bello no vado che come sta giocando spinazzola rega rega oddio no ma c'è sacro dai raga calma calma ragazzi applausi per spinazzola ha fatto una partita pazzesca ma la moise king dati dati moise king no 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 ma rosa di capire questo valeva 100 milioni segnava si no no vabbè non era facile eh però si vode con lui si vede veramente si vede la porta ti non era fatta la segna ma neanche sto piede comunque dai che cazzo ti c'è la segna la segna era difficile no non era poco facile però però bernardeschi che partita ha fatto che partita rigore rigore oddio è rigore questo è un coglione rigore è un coglione calma 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 ho detto prima che cadi ho detto questo farei calma 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 comunque la situazione è buona per la Juve ha parlato Enrico eh fatti lo guardi o non lo guardi lo guardo lo guardo sì star st plots st blessed ha segnato con cristiano ragazzi 5 minuti di recupero 7 dai veramente ragazzi ci saranno i tuoi cinque minuti più lunghi alla vita dai dai pressing fino alla fine fino alla fine trovatevi uno che ha giocato male ragazzi trovate meno uno mamma mia bernardeschi che stop ultimo giro d'orologio ragazzi è finita vamos si levanti ragazzi partita pazzesca goto strappalo con lo stemma l'abbiamo umiliati questa sera l'abbiamo surclassati allo stadium questa è la Juve che volevo vedere ragazzi finalmente ce l'abbiamo fatta abbiamo visto 11 leoni in campo dal primo minuto fino alla fine quello che dovevano fare già l'andata dall'inizio fino alla fine abbiamo fatto una partita da 10 tutti quanti dal portiere all'ultimo attaccante fino a quelli in tribuna quelli che dovevano entrare ragazzi che dire dite anche qualcosa è strameritata la tetico non ha fatto niente né per difendere bene e ovviamente né per attaccare che non ha fatto niente in forte ha difeso male tutta la partita ci vedremo con le prossime maghe vediamo un po' con le maghe devo dire la prossima volta tolto Ronaldo che ha fatto la tripletta quindi ovviamente mi vieni in campo beh io sicuramente nel primo tempo Spinazzola Emre Can e poi nel secondo tempo Bernardeschi ragazzi fenomenale poi ovviamente Cristiano Ronaldo è stato lui l'uomo che ha fatto la tripletta la prima tripletta dove l'ha fatta? La più importante l'ha fatta Oh guarda lì Ha fatto un esultante pure così alla fine Ma che fa? Stai corno grafico Corsio Ma ha fatto la multa Ha fatta finita sulla curva della Fed Hai immaginato Simeone davanti Ah ok L'esultanza di Ronaldo alla fine ragazzi Pazzesco Questo non è mai entrato in campo E l'ha messo abbastanza Pazzesco Io non so più da dire Ditemelo qui sotto con i commenti Ditemi Chi è stato secondo me il migliore in campo Anche se secondo me sono stati tutti i undici Compreso Allegri Perché alla fine la grinta e la uscita In questa partita Che era questa la dimostrazione Dove dovevano uscire le palle Sia lui che tutta la squadra E' ha fatto uscire Bernardeschi E' ha fatto uscire Spinazzola Che comunque era il migliore Mi ha fatto perdere il migliore Bernardeschi Eh Poi si erano incazzati anche voi I dibusi del Real Madrid E' andato via Ronaldo E poi Ronaldo tripletta Uno che fa la differenza così E facciamo se figure Sono lui forse poteva rimontare E' stato andato Quindi ragazzi Il nostro cammino In questa magnifica UEFA Champions League Continua Vedremo poi i sorteggi Fino a settimana Vediamo un po' Venerdì Venerdì Speriamo che ci sia Quindi ragazzi Io li ringrazio anche perché Dovete sapere che i gufi alla fine Per me non conta Nel senso che Conta Conta il risultato Però i gufi alla fine Io non li ho pensati E poi E' andato il proprio In questa mattina Quindi ragazzi Dalatino Mirko Fius E' home E' mister E' terri E' vano E' tutto Noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Fino alla fine